Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo sulla crescita personale. Offre un approccio innovativo e coinvolgente per aiutare i giovani a comprendere l'importanza delle relazioni umane, dell'empatia e del rispetto reciproco, offrendo strumenti pratici e storie significative per affrontare le sfide emotive e sociali della vita quotidiana. La trama del libro dove credi di non andare? Storie gentili per donne e uomini liberi della scrittrice Simona Mosco ed illustrato da Massimo Pasca per la casa editrice Erga, è la seguente. Dove credi di non andare? Non è la domanda, è la risposta. È un invito rivolto alle ragazze e ai ragazzi a non aver paura. In un'epoca in cui contiamo quotidianamente storie di violenza, offese, maltrattamenti è arrivato il momento di guardare alla crisi delle relazioni. L'educazione al rispetto e al sentimento è quell'insegnamento che ci permette di vivere in armonia con gli altri, di vivere rapporti equilibrati fatti di scambio di emozioni. Diventa fondamentale educare i bambini e le bambine a prenderne coscienza, a saperle riconoscere e gestire. Tornare quindi a dare valore alle persone e ai legami al fine di poter riconoscere e cogliere la positività o negatività dei rapporti personali e sociali. Nelle storie che scandiscono questo libro diverse tematiche si intrecciano tra di loro, amicizia, amore, empatia e libertà, concetti chiave imprescindibili tra di loro. All'interno del libro, la scansione di illustrazioni e QR code attraverso l'app Vesepia permette la fruizione di contenuti multimediali di vario tipo. Musiche e canzoni originali ispirate alle tematiche trattate, animazione delle illustrazioni in realtà aumentata e la lettura integrale di ciascun capitolo in modalità audiolibro. Illustrazioni di Massimo Pasca. Musiche e ambientazioni sonore di Giacomo Sans, Nazario Simone, Matteo Giaffreda, Ilenia Giaffreda, Alessandro Solidoro. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.